Amici e amiche sapete che sono un genio e ho trovato la soluzione perfetta per gli amici bolognesi in difficoltà per questa scelta del sindaco Piddino Lepore dei 30 all'ora una scelta che sta sconvolgendo gli amici di Bologna ma io ho la soluzione ci siamo a noleggiare, ci siamo a noleggiare partiamo con la prima proposta a noleggio a breve termine abbiamo Bruno il Mulo solo amici 20 euro al giorno per ben 13 km all'ora e c'è Nello Lasinello, è favoloso Nello Lasinello, è così carino pensate, solo 25 euro al giorno per 15 km all'ora una scelta ottima, ottima per girare tra le strade di Bologna passiamo un mezzo di trasporto ben più veloce abbiamo Gianna Lacavalla a un prezzo superiore a Bruno, 35 euro al giorno sempre affitto a breve termine e con 27 km all'ora è dentro appena i margini imposti dal signor Lepore chiudiamo con un pezzo da 90 amici va ruba abbiamo Marcello il cammello con i suoi 22 km all'ora ti garantisce di non prendere nessun tipo di multa vi ricordo che con il noleggio in dotazione i sacchetti necessari per raccogliere le feci ed evitare di inquinare l'ambiente grazie PD che ci fai vivere nuove emozioni per andare a lavorare grazie a me grazie a me grazie a me e non vedevo il velo schermi in multa i 35 grazie a me grazie a me amore vado a piedi perché forse faccio prima grazie a me grazie a me amore e non vedevo il velo schermi in multa i 35 grazie a me grazie a me amore vado a piedi perché forse faccio prima grazie a me grazie a me grazie a me